La sua è una storia più importante. La sua è una politica lunghissima, iniziata con la militanza nel partito comunista clandestino negli anni della seconda guerra mondiale, per poi arrivare alla direzione dell'unità e ai vertici del PC. Uno dei dirigenti più carismatici, amato soprattutto dai giovani per la passione e il rigore morale e la grande carica idealista che incarnava. A lui faceva riferimento il gruppo di intellettuali che nel 1969 fondarono il manifesto e furono per questo espulsi dal PC. Un errore clamoroso, ammetterà anni dopo Ingrao. In Parlamento per dieci legislature, dal 1948 al 92, nel 76 diventa Presidente della Camera, primo esponente comunista a ricoprire questa carica. Con la fine del PC nei primi anni 90, all'inizio rimane nel nuovo partito il PDS, poi approda rifondazione comunista e resterà iscritto fino al 2008. Nel nuovo millennio si trova ad essere una delle figure di riferimento del movimento pacifista nato con la guerra in Iraq, capace di emozionare ancora folle di giovani. La politica deve far sognare, io voglio sognare, diceva in una delle sue ultime interviste, già ultra novantenne, voglio la luna e la luna deve pure sbrigarsi. Grazie. Grazie a tutti.